musica ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla nuova puntata di minecraft come state vedendo io già sto esaminando ah perfetto la trappola che era da un po' sinceramente che non cagava neanche più di pezza e come già i più attenti avranno notato ho costruito il portale di ossidiana è una cosa che ho accennato già in un commento del canale di arian blades e spero che magari vi passi a controllare ah 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 brucia no non si possono bruciare i polli pazienza e no non si può fare menzone su minecraft pazienza e si oggi inizia la nostra avventura nel nether e speriamo che vada bene perché sì perché penso che morirò tanto tanto allegramente trullalà trullalà bene eccoci arrivati vediamo vediamo se siamo abbastanza fortunati di avere magari subito subito una fortezza po' vicino non penso di essere così fortunata però non occhio no porca di ora infatti sono anche esplorato in un posto scomodissimo uh cos'è uh cos'è si fa anche con quello normale di ferro mi tengo con quello di diamante ma l'altro non avevo anche mille idea di cosa stia raccogliendo che cosa raccoglie? un nether quartz bene non so cosa serve penso che non serviva niente dato che si trova tipo così a secchi presto signori vi diamo un secchio di quarzo del nether è assolutamente inutile si sentono già i pigmen che che sgrufoleggiano ok io come al solito farò stire a pollicino una una riga di torce per non perdere perché nel nether frotto ci vuole veramente un secolo per perdersi tutto incasinato grazie che paura non voglio morire sono giovane cioè più o meno che cacchio si scaviamo verso l'altro come se non ci fosse un domani perché ogni tanto bisogna ricordarsi che è anche bello così morire giorno per giorno no beh c'è una funchia e allora direi che questa me la riprendo so che lei è un estimatore della mia serie non mi picchi si saltiamo assieme c'è stato un profondissimo scambio di guardi fra me e quel signor zombie pigmen è stato uno dei momenti indimenticabili della vita di ogni uomo anche perché parliamo di chi ha l'opportunità di scambiare uno sguardo così intenso con una zombie pigmen sensualità accorte sensualità accorte Grazie a tutti. 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 Non ho più torce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il corpo è illuminato. Grazie a tutti. 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 Ehm... Grazie a tutti. Vediamo se vuole uccidermi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Depositare... Dai. Grazie a tutti.